Seconda tappa in provincia di Siena del Tour l'Europa in Toscana del presidente della regione Enrico Rossi organizzato per visitare città, paesi, istituzioni culturali e aziende in cui sono stati realizzati i progetti con il contributo dei fondi europei. La politica non parla con adeguata competenza e consapevolezza delle tante cose che se una regione si mette con impegno a fare possono essere fatte con i fondi europei aggiungendo fondi regionali e ovviamente anche fondi statali. Ci sono più di quanto io stesso pensassi situazioni di eccellenza, di qualità, iniziative di innovazione che sono state realizzate con questa politica che la regione ha fatto grazie ai fondi dell'Europa. Bisogna farlo sapere anche ai cittadini. La giornata è iniziata a Poggi Bonsi e Colle Valdelsa dove è in fase di realizzazione un programma integrato urbano finanziato con 6 milioni e 700 mila euro del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale su 8 milioni e 900 mila di investimento complessivo. Entro il 2020 a Poggi Bonsi saranno così recuperati e riqualificati Piazza Mazzini, altri spazi ed edifici ad uso pubblico e verranno abbattuti i consumi energetici di una scuola d'infanzia, di un nido e di un palazzo comunale. A Colle Valdelsa invece sono in programma la realizzazione di un percorso ciclopedonale, la ristrutturazione dell'ex vetreria Boschi destinata a ospitare il Museo del Cristallo e altri interventi di recupero. Il viaggio di Rossi è proseguito nella fabbrica di trasformatori Newton che ha investito nell'automazione, nell'industria 4.0 e nel risparmio energetico quasi 2 milioni di euro di cui metà sono contributi pubblici. Ancora a Colle Valdelsa è nato l'Istituto Tecnico Superiore Energia e Ambiente grazie a un contributo del Fondo Sociale Europeo di un milione e mezzo di euro. A Monteriggioni l'Unione Europea ha finanziato interventi per la cultura e il turismo, ovvero il restauro della Porta Franca del Castello e il recupero del complesso monumentale di Abbadia Isola lungo la storica Via Francigena. Ancora a Monteriggioni è stato finanziato con i fondi europei un progetto di riqualificazione energetica degli impianti per la produzione del freddo dei supermercati simpli. Il viaggio del Presidente Rossi ha poi toccato il complesso dell'antico ospedale di Santa Maria della Scala nel centro di Siena, dove con un investimento di 4 milioni e 700 mila euro di cui 3 milioni e 300 mila sono fondi pubblici sono stati recuperati spazi espositivi e un tratto dell'antica Via Francigena inglobato nel complesso. Poi è stata la volta del Polo Toscana Life Sciences, ente che sostiene la ricerca nel campo delle scienze della vita e che nel suo distretto, grazie ai contributi europei, ha sviluppato molti progetti come il Decavil, un farmaco contro l'artrite reumatoide. Infine lo stabilimento Cassioli di Torrita di Siena, azienda che fornisce prodotti e servizi per la logistica integrata e che dal 2010 ha investito 7 milioni e 400 mila euro in tre progetti finanziati per 3 milioni e 300 mila euro con fondi europei. Grazie a tutti.